salve a tutti oggi sono qui come avrete capito su osu vediamo com'è troppo lenta troviamo no voglio fare la perfect al massimo la full combo no voglio fare la skinnera l'obbicità davvero bello lo skinner che l'hanno messo vabbè proviamo art oh che schifo questa partita voglio farlo sopra perché neanche voglio di ascoltare più questa canticina dopo di usare le sue citati che io abbia perso che schifo schifo ciao a tutti è stato bello conoscervi non è vero vi odio non è vero vi amo non è vero mettete like e basta a caso fate quello che volete tanto sto video fa schifo come voi la vita fa schifo grazie 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 grazie